8. La perla nera. Un colpo violento di Campanello svegliò la portinaia del numero 9 di Avenue Oak. Tirò il cordone embrontolando. Credevo che fossero tornati tutti. Sono almeno le tre. Suo marito mugulò. Forse per il dottore. Infatti, una voce chiese. Il dottore Arell, che piano? Terzo a sinistra, ma non si disturba di notte il dottore. Occorrerà che si disturbi. Il signore penetrò nel vestibolo, salì un piano, due piani e, senza nemmeno fermarsi sul pianerottolo del dottor Arell, continuò fino al quinto. La provò due chiavi. La prima fece aprire la serratura. La seconda il chiavistello di sicurezza. Meraviglia, mormorò. Il compito è considerevolmente semplificato, ma prima di agire bisogna assicurare la nostra ritirata. Vediamo. Ho avuto il tempo di suonare dal dottore e di essere congedato da lui? Non ancora, un po' di pazienza. Dopo una decina di minuti, discese e urtò contro il vetro dello studio imprecando contro il dottore. Gli aprirono e sbatté la porta dietro di sé. Ora la porta non si chiuse, poiché l'uomo aveva applicato in profondità un pezzo di ferro nella bocchetta affinché la stanghetta non potesse introdurvisi. Entrò quindi senza rumore, all'insaputa dei portinai. In caso d'allarme, la ritirata era assicurata. Tranquillamente risalì i cinque piani. Nell'anticamera, alla luce di una lanterna elettrica, depose il sopravvito e il cappello su una sedia. Si sedette su un'altra e avvolse gli stivaletti di spesse pantofole di feltro. Uff, ecco fatto! E quanto facilmente! Mi chiedo perché non scelgano tutti il confortevole messiere di ladro. Con un po' di destrezza e di riflessione non ve n'è di più affascinante. Un messiere di tutto riposo. Un messiere da padre di famiglia, anche troppo comodo, al punto da diventare fastidioso. Spiegò una mappa dettagliata dell'appartamento. Cominciamo con l'orientarci. Qui scorgo il rettangolo del vestibolo dove mi trovo. Dalla parte della strada, il salotto, il boudoir e la sala da pranzo. Inutile perdere tempo da lì. Mi pare che la contessa abbia un gusto deplorevole. Neppure un soprammobile di valore. Quindi, dritto lo scopo. Ah! Ecco il tracciato del corridoio, del corridoio che porta alle camere. A tre metri devo incontrare la porta dell'armadio dei vestiti che comunica con la camera della contessa. Ripiegò la mappa. Spense la lanterna e si avviò a lungo il corridoio contando. Un metro, due metri, tre metri. Ecco la porta. Come tutto si sistema, mio Dio. Un semplice chiavistello, un piccolo chiavistello, mi separa dalla camera. E ciò che mi importa, so che questo chiavistello si trova a un metro e 43 dal pavimento. In modo che, grazie a una leggera incisione che praticherò intorno, ce ne saremo sbarazzati. Prese dalla tasca gli strumenti necessari, ma un'idea lo fermò. E se per caso questo chiavistello non è spinto? Proviamo sempre, per quel che costa. Girò il pomello della serratura. La porta si aprì. Mio bravo Lupin, decisamente la fortuna ti favorisce. Che ti occorre adesso? Tu conosci la topografia dei luoghi in cui opererai. Conosci il luogo dove la contessa nasconde la perla nera. Di conseguenza, perché la perla nera ti appartenga, si tratta stupidamente di essere più silenzioso del silenzio, più visibile della notte. Arsenio Lupin impegnò una mezz'ora per aprire la seconda porta, una porta vetrata che dava sulla camera. Ma lo fece con tanta precauzione che, quando anche la contessa non avesse dormito, nessun cigolio equivoco avrebbe potuto allarmarla. Secondo le indicazioni del suo piano, doveva solo eseguire il contorno ad una sedia a sdraio. Ciò lo conduceva a una poltrona, poi a un tavolino situato vicino al letto. Sul tavolo c'era una scatola di carta da lettere e, chiusa semplicemente in questa scatola, la perla nera. Si allungò sul tappeto e seguì i contorni della sedia a sdraio. Ma all'estremità si fermò per reprimere i battiti del cuore. Benché nessun timore l'agitasse, gli era impossibile vincere questa sorta di angoscia nervosa che si prova nel silenzio troppo grande. E se ne stupiva, poiché, insomma, aveva vissuto senza emozioni in dei minuti più solenni. Nessun pericolo lo minacciava. Allora perché il suo cuore batteva come una campana impazzita? Era questa donna addormentata che lo impressionava, questa vita così vicina alla sua. Ascoltò e credette di discernere il ritmo di un respiro. Fu rassicurato come da una presenza amica. Cercò la poltrona, poi, con i piccoli gesti impercettibili, strisciò verso il tavolo, tastando l'ombra del suo braccio disteso. La mano destra incontrò uno dei piedi del tavolo. Finalmente! Doveva solo alzarsi, prendere la perla e andarsene. Fortunatamente. Poiché il cuore ricominciava a saltare nel petto come una bestia atterrita e con un tale rumore che gli sembrava impossibile che la contessa non si svegliasse. Lo placò con uno slancio di volontà prodigiosa, ma nel momento in cui cercò di rialzarsi, la sua mano sinistra urtò sul tappeto contro un oggetto che riconobbe subito per un candelabro, un candelabro rovesciato. E subito un altro oggetto si presentò, una pendola, una di quelle piccole pendole da viaggio ricoperte da una guaina di cuoio. Cosa? Che accadeva? Non capiva! Il candelabro, la pendola! Perché questi oggetti non erano al loro posto abituale? Ah! Che cosa avveniva nell'ombra stupefacente! E subito un grido gli sfuggì. Aveva toccato... Oh! Qualche cosa strana, innominabile. Ma no, no, la paura gli turbava il cervello. Venti secondi, trenta secondi, restò immobile, spaventato del sudore alle tempie. E le dita conservavano la sensazione di quel contatto. Con uno sforzo implacabile tese di nuovo il braccio. La mano, di nuovo, sfiorò la cosa, la strana cosa innominabile. La palpò. Pretese che la mano la palpasse e si rese conto. Era una capigliatura, un viso. E questo viso era freddo, quasi gelito. Per quanto sia terrificante la realtà, un uomo come Assegno Lupin, la domina non appena ne abbia preso conoscenza, rapidamente fece scattare la molla della lanterna. Una donna giaceva davanti a lui, coperta di sangue. Spaventose ferite ne devastavano il collo e le spalle. Si chinò e l'esaminò. Era morta. «Morta, morta!» ripetè con stupore. E guardava quegli occhi fissi, il ghigno della bocca, la carne livida, tutto quel sangue che era colato sul tappeto e ora si coagulava, spesso e nero. Poiché si era alzato, accese la luce, la stanza si riempì di luce e poteva vedere tutti i segni di una lotta accanita. Il letto era completamente disfatto. Le coperte e le lenzuola strappate. Per terra il candelabro, poi la pendola. Le lancette sembravano le undici e venti. Poi, più lontano, una sedia rovesciata e ovunque sangue, pozzanghere di sangue. «E la perla nera!» mormorò. La scatola da carta da lettere era al suo posto. La aprì sveltamente. Conteneva lo scrigno, ma lo scrigno era vuoto. «Caspita!» si disse. «Ti sei vantato un po' presto della fortuna, amico al segno Lupin. La contessa assassinata, la perla nera scomparsa, la situazione non è brillante. Filiamo, altrimenti rischi molto di incorrere in pesanti responsabilità». Tuttavia non si mosse. «Filarsela? Sì, un altro se la sbignerebbe. Marsegno Lupin? Non c'è di meglio da fare? Vediamo, procediamo per ordine. Dopotutto, la tua coscienza è tranquilla. Supponi che tu sia commissario di polizia e che tu debba procedere a un'inchiesta. Sì, ma per questo bisognerebbe avere un cervello più chiaro. E il mio è in uno stato». Si lasciò cadere su una poltrona, i pugni chiusi sulla fronte scottante. «Il delitto di Eve Newhawk è uno di quelli che ci hanno più fortemente intrigati in questi ultimi tempi. E non l'avrei certo raccontato se la partecipazione di Arsenio Lupin non l'avesse chiarito con una luce tutta speciale. Questa partecipazione sono in pochi a sospettarla. Nessuno sa, in ogni caso, l'esatta e curiosa verità. Chi non conosceva, per averla incontrata al Bius L'Antiozalti, l'ex cantante, sposa e vedova del conte d'Antillot, l'Azzalti il cui lusso abbagliava Parigi venti anni fa, contessa d'Antillot, alla quale le pariur di diamanti e di perle donavano una reputazione europea? Si diceva che portasse sulle spalle la cassaforte di parecchie aziende bancarie e le miniere d'oro di parecchie compagnie australiane. I grandi gioiellieri lavoravano per l'Azzalti come si lavorava un tempo per i re e le regine. E chi non si ricorda della catastrofe in cui tutte queste ricchezze furono dissipate? Aziende bancarie e miniere d'oro, l'abisso divorò tutto. Della collezione meravigliosa dispersa dal banditore di aste restò solo la famosa perla nera. La perla nera! Cioè una fortuna, se lei avesse voluto disfarsene. Lei non volle. Preferì limitare il suo tenore di vita, vivere in un semplice appartamento con la dama di compagnia, la cuoca e un domestico, piuttosto che vendere l'inestimabile gioiello. C'era in questo una ragione che non temeva di confessare. La perla nera era il regalo di un imperatore. E quasi in rovina, ridotta all'esistenza più mediocre, restò fedele alla sua compagna dei giorni belli. Finché vivrò, diceva, non lo lascerò mai. Dal mattino fino alla sera la portava al collo. La notte la metteva in un posto noto solo a lei. Tutti questi fatti ricordati dalle cronache pubbliche stimolarono la curiosità. E cosa bizzarra, ma facile da capire per quelli che hanno la chiave dell'enigma, fu precisamente l'arresto del presunto assassino che complicò il mistero e prolungò l'emozione. Due giorni dopo, infatti, i giornali pubblicavano la seguente notizia. Ci annunciano l'arresto di Victor de Nege, il domestico della contessa d'Antilotte. Gli indizi, rivelati contro di lui, sono schiaccianti. Sulla manica di seta lucida del suo gilet di livrea, che il signor Dudus, il capo della Suret, ha trovato nella sua mansarda, tra la rete e il materasso, sono state rintracciate dalle macchie di sangue. Inoltre mancava nel gilet un bottone ricoperto di stoffa. Ora questo bottone, sin dall'inizio delle perquisizioni, era stato raccorto sotto il letto stesso della vittima. È probabile che dopo la cena, De Nege, invece di tornare in mansarda, si sia infilato nel stanzino dei vestiti e che attraverso la porta vetrata abbia visto la contessa nascondere la perla nera. Dobbiamo dire che sin qui nessuna prova ha confermato questa supposizione. In ogni caso, un altro punto resta oscuro. Alle sette del mattino, De Nege si è recato alla tabaccheria di Boulevard de Courses. La portinaia prima, poi la tabaccaia, hanno testimoniato in questo senso. D'altra parte, la cuoca della contessa e la dama di compagnia, che dormono tutte e due in fondo al corridoio, affermano che alle otto, quando si sono alzate, la porta dell'anticamera e la porta della cucina erano chiusa a doppia mandata. Da vent'anni al servizio della contessa, queste due persone sono al di sopra di ogni sospetto. Si si chiede quindi come De Nege si è potuto uscire dall'appartamento. Si era fatto fare un'altra chiave? L'istruttoria chiarirà questi punti controversi. L'istruttoria non chiarì assolutamente niente, invece. Si apprese che Vittor De Nege era un recidivo pericoloso, un alcolista e un debosciato che una coltellata non spaventava. Ma la vicenda stessa sembrava, mano a mano che la si studiava, avvolgersi di tenebre più spesse e di contraddizioni più inspiegabili. In primo luogo, una signora di Sincleves, cugina di un'unica erede della vittima, dichiarò che la contessa, un mese prima della morte, le aveva confidato in una sua lettera il modo in cui lei nascondeva la perla nera. L'indomani del giorno in cui riceveva questa lettera, se ne constatava la scomparsa. Chi l'aveva rubata? Da parte loro, le portinaie raccontarono che avevano aperto la porta a un individuo, che era salito dal dottor Arell. Si mandò a chiamare il dottore. Nessuno aveva suonato a casa sua. Allora chi era questo individuo? Un complice? Questa ipotesi di un complice fu adottata dalla stampa e dal pubblico. Ganimard, il vecchio ispettore capo, la difendeva non senza ragione. Qui c'entra Lupin, diceva il giudice. Bah, rispondeva questi, lei lo vede dappertutto, il suo Lupin. Io lo vedo dappertutto, perché è dappertutto. Dica piuttosto che lo vede ogni volta in cui qualcosa non le sembra molto chiaro. D'altronde, nella specie, noti questo. Il crimine è stato commesso alle undici e venti della sera, così come attesta la pendola e la visita notturna, denunciata dai portinai, avviene solo alle tre del mattino. La giustizia ubbidisce spesso a questi impulsi di convinzione che fanno in modo che si obbligano gli eventi a piegarsi alla prima spiegazione che se ne è data. Gli antecedenti deplorevoli di Victor de Negre, recidivo, ubriacone e deposciato, influenzarono il giudice, e benché nessuna circostanza venisse a corroborare i due o i tre indizi in primo luogo scoperti, niente pote scuoterlo. Chiuse la sua inchiesta. Alcune settimane dopo cominciò il dibattimento. Furono confusi e deboli. Il presidente li diresse senza ardore. Il pubblico ministero attaccò in modo fiacco. In queste condizioni l'avvocato di De Negre aveva buon gioco. Mostrò le lacune e le impossibilità dell'accusa. Nessuna prova materiale esisteva. Chi aveva forgiato la chiave, l'indispensabile chiave senza la quale De Negre, dopo la sua partenza, non avrebbe potuto richiudere a doppia mandata la porta dell'appartamento? Chi l'aveva vista questa chiave e dov'era finita? Chi aveva visto il coltello dell'assassino e dov'era finito? E in ogni caso, concludeva l'avvocato, si provi che sia il mio cliente che ha ucciso. Si provi che l'autore del furto e del crimine non sia quel misterioso personaggio che si è introdotto nella casa alle tre del mattino. «La pendola segnava le undici, mi si dirà. E dopo? Non si possono mettere le lancette di una pendola all'ora che vi conviene?» Victor De Negre fu assolto. Uscì di prigione un venerdì al declinare del giorno, smagrito, depresso da sei mesi di cella. L'istruttoria, la solitudine, i dibattimenti, le deliberazioni della giuria, tutto ciò l'aveva riempito di uno spavento morboso. La notte, paurosi incubi, visioni di patibolo, l'ossessionavano. Tremava di febbre e di terrore. Sotto il nome di Anatole Dufault, affittò una cameretta sulle colline di Montremert e visse di lavori occasionali, saltuariamente a destra e a manca. Vita pietosa. Tre volte assunto da tre padroni differenti, fu riconosciuto e mandato via all'istante. Spesso si accorse, o credette di accorgersi, che degli uomini lo seguissero, uomini della polizia. non ne dubitava che non rinunciava a farlo cadere in qualche trappola e sentiva in anticipo la stretta dura della mano che lo avrebbe preso al collo. Una sera in cui cenava da un rosticcere del quartiere, qualcuno si sedette davanti a lui. Era un individuo di una quarantina d'anni, vestito con una redengote nera di dubbia rifinitura. Ordinò una minestra, della verdura e un litro di vino. E quando ebbe mangiato la minestra, girò gli occhi verso Danegre e lo guardò a lungo. Danegre impallidì. Di sicuro quest'individuo era uno di quelli che lo seguivano da settimane. Che voleva da lui? Danegre tentò di alzarsi, non poté. Le sue gambe vacillavano sotto di lui. L'uomo si versò un bicchiere di vino e riempì il bicchiere di Danegre. Brindiamo, compagno? Victor balbettò. Sì, sì, alla sua salute, compagno. Alla sua salute, Victor Danegre. L'altro sussultò. Io, io, ma no, le giuro. Mi giura che cosa? Che non è lei? Il domestico della contessa. Quale domestico? Io mi chiamo Dufour. Domandi al padrone. Dufour, Anatole, sì, per il padrone, ma Danegre per la giustizia. Victor Danegre. Non è vero, non è vero. Le hanno mentito. Il nuovo venuto tirò fuori dalla tasca una carta e lo stese. Victor lesse. Grimandou, ex ispettore della Surette, informazioni confidenziali. Lui trasalì. È della polizia? Non lo sono più, ma il mestiere mi piaceva e continuo in modo più lucrativo. Si scovano ogni tanto degli affari d'oro, come il suo. Il mio? Sì, il suo. È un affare eccezionale. Se tuttavia vuole metterci un po' di condiscendenza. E se non ne metto? Bisognerà. È in una situazione in cui non può rifiutarmi niente. Un'apprensione sorda invadeva Victor Danegre. Domandò, che cosa c'è? Parli. Va bene, rispose l'altro. Finiamola. In due parole, ecco, sono mandato dalla signorina de Sincleves. Sincleves. L'erede della contessa d'Antilote. Ebbene? Ebbene, la signora de Sincleves mi incarica di richiederle la perla nera. La perla nera? Quella che ha rubato. Ma io non ce l'ho. Ce l'ha. Se l'avessi sarei io l'assassino. È lei l'assassino. Danegre si sforzò di ridere. Fortunatamente, mio caro signore, la corte d'assise non è stata dello stesso avviso. Tutti i giurati, capisce, mi hanno riconosciuto innocente. E quando si ha coscienza di sé e la stima di dodici brave persone, l'ex ispettore gli afferrò il braccio. Niente commenti, caro mio. Ascolti bene attentamente e pesi le mie parole. Essi non valgono la pena. Danegre, tre settimane prima del crimine, lei ha rubato alla cuoca la chiave che apre la porta di servizio e ha fatto fare una chiave simile da «Hutard, Fabro-Ferraro, 244, Rue Oberkampf». «Non è vero, non è vero», brontolò Victor. «Nessuno ha visto questa chiave, non esiste». «Eccola». Appena dopo un silenzio, Grimandu riprese. Ha ucciso la contessa con un coltello a ghiera comprato al Bazar della République, il giorno stesso in cui ordinava la chiave. La lama è triangolare fornita di una scanalatura. «Sciocchezze, lei parla a caso. Nessuno ha visto il coltello. Eccolo!» Victor Danegre indietergiò. L'ex ispettore riprese. «Vi sono sopra macchie di ruggine. Vi è bisogno di spiegarle la provenienza». «E dopo? Ha una chiave e un coltello. Chi può fermare che mi appartengano?» «Il Fabro-Ferraio in primo luogo e poi l'impiegato a cui ha comprato il coltello. Ho già rinfrescato loro la memoria. Di fronte a lei non mancheranno di riconoscerla». Parlava in modo secco e duro con una precisione terrificante. Danegre era contratto dalla paura. Né il giudice né il presidente d'Assise né l'avvocato generale l'avevano stretto così da vicino. Avevano visto così chiaro nelle cose che lui stesso non discerneva più molto nettamente. Tuttavia tentò di fare ancora l'indifferente. «Se sono queste tutte le sue prove mi resta questa». Dopo il crimine ha ripreso lo stesso cammino ma nella stanza dei vestiti preso dallo spavento ha dovuto appoggiarsi contro il muro per conservare il suo equilibrio. «Come lo sa?» balbettò Victor «Nessuno può saperlo». «La giustizia? No». Non poteva venire in mente a nessuno di questi signori della procura di accendere una candela e di esaminare i muri ma se lo facessero si vedrebbe sul gesso bianco una macchia rossa molto leggera abbastanza netta però perché vi si ritrovi l'impronta del polpastrello del suo pollice del suo pollice tutto impregnato di sangue che aveva posato contro il muro ora non ignori che in antropometria questo è uno dei principali mezzi di identificazione Victor Danegre era livido gocce di sudore imperlavano la sua fronte considerava con occhi da folle questo mostrano che evocava il suo crimine come se ne fosse stato il testimone invisibile abbassò la testa vinto impotente da mesi lottava contro tutti contro quell'uomo aveva l'impressione che non ci fosse nulla da fare se io le restituisco la perla balbettò quanto mi darà niente come prende in giro io le darei una cosa che vale centinaia di migliaia di franchi non avrei niente sì la vita il miserabile rabbrividì Grimandò aggiunse quasi con tono dolce vediamo Danegra non ha nessun valore per lei è impossibile per lei venderla per quale motivo conservarla ci sono dei ricettatori e un giorno o l'altro a qualunque prezzo un giorno o l'altro sarà troppo tardi perché perché ma perché la giustizia avrà rimesso la mano su di lei e questa volta con le prove che io le fornirò il coltello la chiave l'indicazione del suo pollice lei è spacciato mio caro Victor si strinse la testa con le mani e riflettè si sentiva perduto in effetti irrimediabilmente perduto e nello stesso tempo una grande fatica l'invadeva un immenso bisogno di riposo ed abbandono mormorò quando la vuole questa sera prima di un'ora altrimenti altrimenti imposto questa lettera in cui la signora de Sinclavesse la denuncia al procuratore della repubblica Danegra si versò due bicchieri di vino che beve uno dopo l'altro poi alzandosi paghi il conto e andiamo io ne ho abbastanza di questo maledetto affare era giunta la notte i due uomini discesero a Rullepic e seguirono i viali esterni dirigendosi verso l'Etoile camminavano in silenzio Victor molto stanco e la schiena piegata nel parkman coup disse è a fianco della casa perbacco non è uscito prima del suo arresto che per andare dalla tabaccheria ci siamo fece Danegra con voce sorda camminarono lungo il recinto del giardino e attraversarono una strada a cui la tabaccheria faceva da angolo Danegra si fermò alcuni passi oltre le sue gambe vacillavano cadde su una panchina ebbene chiese il compagno è là è là che storie sono queste sì là davanti a noi davanti a noi dica dunque Danegra non bisognerebbe le ripeto che è là dove tra due pavè quali cerchi quali ripete Grimandò Victor non rispose ah perfetto vuoi farmi allungare per terra caro mio no ma io sto per crepare di miseria e allora esiti andiamo sarò magnanimo quanto ti occorre di che per prendere un biglietto di interport per l'america convenuto e un biglietto di cento franchi per le prime spese ne avrai due parla conti pavè a destra della fognatura è tra il dodicesimo e il tredicesimo nel rigagnolo sì sotto il marciapiede Grimandò si guardò intorno dei tram passavano passava gente ma beh chi poteva dubitare aprì il suo temperino e lo piantò tra il dodicesimo e il tredicesimo pavè e se non c'è se nessuno mi ha visto abbassarmi e affondarla c'è ancora ma poteva darsi che ci fosse la perla nera gettata nel fango d'urrigagnolo a disposizione del primo venuto la perla nera una fortuna a quale profondità è a dieci centimetri più o meno scavò nella sabbia molle la punta del temperino urtò qualcosa con le dita allargò il buco scorse la perla nera tieni ecco i tuoi 200 franchi ti manderò il biglietto per l'america l'indomani l'eco de france pubblicava questo trafiletto che fu ripreso dai giornali di tutto il mondo da ieri la famosa perla nera è nelle mani di Arsenio Lupin che l'ha ripresa all'omicida della contessa d'antilotte fra poco delle riproduzioni di questo prezioso gioiello saranno esposte a Londra a San Pietroburgo a Calcutta a Buenos Aires e a New York Arsenio Lupin attende le proposte che vorranno fargli i suoi corrispondenti ed ecco in che modo il crimine viene sempre punito e la virtù ricompensata concluse Arsenio Lupin quando Mab è rivelato il retroscena dell'affare ed ecco in che modo sotto il nome di Grimando ex ispettore della Soret fu scelto dal destino per togliere al criminale il beneficio del suo misfatto giustamente e confesso che è una delle avventure di cui sono più fiero i 40 minuti passati nell'appartamento della Contessa dopo aver constatato la sua morte sono fra i più stupefacenti e i più profondi della mia vita in 40 minuti invischiato nella situazione più inestricabile ho ricostruito il crimine e ho acquisito la certezza con l'aiuto di alcuni indizi che il colpevole poteva essere solo un domestico della Contessa infine ho compreso che per avere la perla bisognava che questo domestico fosse arrestato e ho lasciato il bottone del gilet ma che non bisognava che si rivelassero contro di lui delle prove irrecusabili della sua colpevolezza e ho raccolto il coltello dimenticato sul tappeto portato via la chiave dimenticata nella seratura ho chiuso la porta a doppia mandata e cancellato le tracce delle dita sul gesso della stanza dei vestiti secondo me fu lì uno di quei lampi di genio interruppi di genio se vuole e che non avrebbe illuminato la mente del primo venuto intuire in un secondo i due termini del problema un arresto e un proscioglimento servirmi dell'apparato formidabile della giustizia per scuotere il mio uomo per instupidirlo in breve per metterlo in uno stato mentale in modo che una volta liberato doveva inevitabilmente e fatalmente cadere nella trappola un po' grossolana che gli tendevo un po' dica molto poiché lui non correva alcun pericolo o non il minore poiché ogni assoluzione è una cosa definitiva povero diavolo Victor Danegre non pensa che sia un assassino sarebbe stata l'ultima immoralità se la perla nera fosse rimasta a lui lui vive pensi dunque Danegre vive e la perla nera è sua l'estrasse da una delle tasche segrete del suo portafoglio l'esaminò la carezzò con le dita e gli occhi e sospirò qual è il nababbo qual è il raggià imbecille e vanitoso che possederà questo tesoro a quale miliardario americano è destinato il piccolo pezzo di bellezza e di lusso che ornava le bianche spalle di Lontinzalti contessa d'antilotte lontinzalti lontinzalti lontinzalti